Sappiamo che la scuola incide sul 26% circa, anche un po' di più forse, dei contagi giornalieri. Quindi se nella nostra regione abbiamo 10.000 casi al giorno, è facile dire che 2.500 almeno sono imputabili alla fascia dell'età scolare. E sono in forte aumento. E sono anche in forte aumento proprio esponenziale di giorno in giorno. La quarta ondata preoccupa il mondo della scuola e la variante Omicron mette a rischio la tenuta del sistema delle quarantene messo in atto dal Ministero della Salute e da quello dell'istruzione. La Omicron ha un po' scompaginato tutte le previsioni e anche tutte le cautele che nelle scuole si erano adottate. La riunione del Consiglio dei Ministri, il prossimo 5 di gennaio, dovrà in qualche modo tenere presente dei contagi in crescita in vista dell'apertura delle scuole in Veneto il 10 di gennaio. Tenendo però conto che la proposta di estensione in tutte le scuole della DAD per gli studenti non vaccinati, a partire dal secondo contagio in classe, ha sollevato un mare di polemiche. Il Governo dovrà considerare che per molti genitori la proposta è giudicata discriminatoria, anche vista la bassa percentuale di vaccinazione fra i minori. Le perplessità sul da farsi non mancano. Sicuramente sul piano didattico tenere la classe parte in presenza, parte da remoto, è molto difficile, molto problematico per le scuole. Prevedere una formula mista mette in grandissima difficoltà sia tecnica ma anche proprio didattica le scuole e gli insegnanti. E questa è la prima perplessità. Ma io ne aggiungo anche un'altra. Teniamo presente che a livello di ragazzi bambini della primaria, noi in Veneto abbiamo un tasso di vaccinazione di prima dose che ha raggiunto l'11%. In altre regioni siamo anche sotto il 10%. Quindi mi chiedo a cosa potrebbe servire questa misura. L'altro aspetto riguarda i ragazzi delle superiori, visto che poi sono le famiglie a decidere se vaccinare i propri figli ancora minorenni. Quindi la scuola che dovrebbe essere un luogo di inclusione e di, diciamo, dovrebbe indurre a ridurre le differenze, le distinzioni anche di background familiare, diventerebbe un amplificatore che peraltro si ripercuote proprio sul diritto allo studio.